Ciao, scusa, io pensavo che la macchina è la mamma, dopo facevo le fotografie un'altra volta. Mi ha detto che posso fare il filmino. Sì, ok, ciao, abbastanza adesso. Ciao. Una volta di me lo cani, tre biglietti, tre biglietti in tevi, vuoi prendere i nuovi biglietti? Sì, come sempre. Vediamo, vediamo qui la roba che c'è un po' di roba sotto. Aiuto, dai. Che ti serve a me? Maria. Che c'è, bello, ciao. Salute all'Australia. Sì. Bye, bye. Dov'è? Da lì. Da, dai. Cui? A Pasqua. Tuoi barcoli? Tuoi barcoli? Pasqua. Tuoi barcoli? Tuoi barcoli? Sì. Tuoi barcoli? Tu sei l'ho. Tu è un화를. Non è piuttosto che non puoi. Non è piuttosto che non puoi. Grazie. Ah, certo. Ma non è giusto. No, no, no. Un filo di capelli. Non è giusto. Andiamo a fare un'altra stanza. Non so. Non è giusto per me. Non è giusto per me. Pecco, sono arrivate. Cos'è? Ah, Nino. Eh, dimmi se facciamo una camminata. Una camminata. Dalla mattina fino a mo'. Eh, ma il mondo non dorme la mattina. Tu hai dormito bello. Nonna si è alzata alle sette. Sono andata a camminare al ponte. Sono ritornata, ho bevuto il caffè con Lello. E poi se voi non sono andata a cuore con Maria. Sì, è bello. Sì, è bello. Questa è questa. Questa è la macchina. La macchina di Maria. La macchina. Vi savere avete